Il progetto di dieci anni fa che deve essere aggiornato al tempo d'oggi, straordinario, ci lavorarono ingegneri italiani, spagnoli, giapponesi, americani, penso che l'Italia darà lezioni al mondo, mi spiace leggere sciocchezze di gente che non sa ciò di cui parla, il terremoto c'è in Italia come c'è in Giappone c'è in Turchia e questo non impedisce di costruire i ponti in totale sicurezza, la cosa bella è che siccome molti si riempiono la bocca di parola green, il ponte sullo stretto sarà la grande opera più green al mondo, si rispermieranno almeno 140.000 tonnellate di CO2 nell'aria e si ripulirà il canale di Sicilia, quindi noi siamo green coi fatti e quindi gli pseudoambientalisti che dicono no all'unione fra Sicilia, Italia ed Europa non sanno ciò di cui parla, non è un problema al terremoto, non è un problema al vento, non sarà un problema né per i pesci né per gli uccelli, sarà un enorme risparmio di tempo, di soldi e tanto inquinamento in meno.